Un sacerdote francese, Pierre Vignon, ha lanciato una petizione online per chiedere le dimissioni del cardinale di Lione, Philippe Barbarin, sotto processo per non aver denunciato gli abusi sessuali commessi nella sua diocesi, e in particolare quelli di padre Bernard Préinat, accusato di pedofilia da un gruppo di ex scout. Il prete di Valence, nella regione francese del Rondano Alpi, ha lanciato l'iniziativa su change.org. In seguita alla lettera di Papa Francesco al popolo di Dio, scrive il sacerdote, vi chiedo pubblicamente di dimettervi da cardinale d'arcivescovo di Lione il prima possibile. Avrebbe già dovuto dimettersi dopo il suo lapsus, grazie a Dio i fatti sono prescritti, prosegue nella lunga lettera padre Vignon. Dimettervi da cardinale d'arcivescovo sarebbe certamente la morte civile, ma sareste finalmente all'altezza degli eventi. Ai primi di settembre sarà resa nota la nuova data del processo, già rinviato per questioni procedurali.